Costantino Lanza, essere tra i riconfermati della passata stagione è una bella soddisfazione per te? Sicuramente, è una bellissima soddisfazione, anche perché credo che giocare con la maniera della propria città sia una cosa molto molto bella. Emozionato per l'inizio di questa nuova stagione? Sì, è un po' emozionato, ma soprattutto non vedo l'ora di iniziare questo campionato al meglio. Senti, che obiettivi ti poni? Tu e i personali, ma quelli della squadra? I miei obiettivi sono sicuramente che cercherò di dare sempre il 100% e soprattutto poi cercheremo tutta la squadra di dare il 100% per arrivare alla vittoria del campionato, come ci siamo predisposti. Sei stato in tribuna a tifare per l'Abbattipagliese, ora ci giochi con l'Abbattipagliese, ai tuoi amici, ai tifosi, cosa senti di dire? Sì, sicuramente spero che ci siano vicino alla squadra e soprattutto tifano per voi, sì, prima cosa, grazie. Sì, sicuramente, grazie a tutti. Grazie a tutti